Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, chiusura ai mezzi pesanti di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo del tratto tra il bivio con la variante di valico Baccheraia e Aglio. Sempre in A1, code per lavori in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. In A11, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, spostandoci sulla FIPILI 3 km di coda per lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici verso Firenze. Sempre in FIPILI, dalle 22 di domani al via i lavori di adeguamento e messa in sicurezza tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in entrambe le direzioni, i cantieri saranno attivi negli orari 8.17.22.6. Ed è tutto, buon viaggio! Ed è tutto, buon viaggio!